Morte di Mario Solimeno, i carabinieri hanno tratto in arresto i presunti responsabili. Questa mattina i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno e della Compagnia di Eboli, nell'ambito di un'intensa attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, hanno dato seguito all'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di tre persone ritenute responsabili dell'omicidio di Mario Solimeno, il 29enne deceduto a seguito delle gravi ferite riportate in una sparatoria avvenuta a Eboli presso Rione Pescara nel settembre scorso. Il provvedimento cautelare nei confronti di Giuseppe Celso, Felice Celso e Gaetano Celso è scaturito in quanto è stata ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti in particolare di Celso e Giuseppe, in riferimento all'omicidio del 29enne deceduto presso l'ospedale dei Colli a Napoli, dove era stato ricoverato a seguito delle ferite d'arma da fuoco riportate in un agguato avvenuto a Eboli. Inoltre, dalle indagini sarebbero emerse responsabilità in riferimento ai reati di detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo, tentata e estorsione in continuazione ai danni di Maria Solimeno e furto in abitazione in concorso ai danni, oltre che di Maria Solimeno, anche di Daniele Marotta. Agli altri due indagati sono invece stati contestati i reati di furto in abitazione e detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo. Secondo quanto ritenuto dai giudici per le indagini preliminari, le vicende al vaglio ed in riferimento allo stato attuale delle investigazioni sarebbero collegate a una faida in corso tra contrapposti gruppi di persone dedicate all'illecito commercio di sostanza stupefacente nel comune di Eboli.